Le strade che puoi seguire per lanciare e far crescere un'attività sul web sono tante, sono diverse e tutte valide. Quella che personalmente però ho trovato la più efficace in assoluto è stata creare dei corsi online. Non dico certo di aver sperimentato tutte le strade disponibili là fuori, però posso dire di averne provate diverse. Ed è stato con il lancio di un corso sulla SEO che al tempo era la mia competenza primaria perché mi dedicavo all'ottimizzazione sui motori di ricerca che tutto ha cominciato a cambiare. Ok ma sto divagando, parliamo di cose concrete. Vediamo quali sono i vantaggi di un corso digitale e sono davvero tanti, qui ne nominiamo soltanto alcuni. Il primo è che è automatizzabile al cento per cento. Questo significa che una volta creato e lanciato funziona potenzialmente senza di te ed è scalabile senza necessariamente toglierti altro tempo ed energie. Certo richiede una presenza a livello strategico per quanto riguarda poi il raggiungimento di nuovi clienti potenziali però da un punto di vista di creazione di produzione non richiede altro tempo a meno che naturalmente tu non voglia aggiungere delle novità o una versione aggiornata. Un'altra ragione per cui un corso online assolutamente grandioso è che crea una giusta fiducia per intraprendere il prossimo passo. In chi? Nel tuo potenziale cliente. Quando qualcuno ti trova, ti scopre online, deve imparare a conoscerti per poi riuscire ad apprezzarti e fidarsi di te. È un percorso graduale e un corso online, soprattutto quando è un mini corso che io posso testare senza sperimentare senza un impegno particolarmente esoso. È l'occasione perfetta perché possa farlo senza rischi prima di impegnarsi in un percorso magari più approfondito e più impegnativo sia in termini di tempo che in termini naturalmente di budget. Un altro motivo per cui i corsi online sono fantastici è che hanno bassi costi di produzione. Al di là del tempo che ti serve per crearlo, che comunque abbiamo visto è richiesto una volta sola, tutto il resto ha costi contenuti che puoi assorbire rapidamente anche e soprattutto attraverso le prime vendite oppure grazie ad un budget di partenza che tu hai a disposizione. È ovvio anche qui che se vuoi fare le cose ad un certo livello di professionalità tecnica avrai bisogno magari di un microfono di un certo costo, una fotocamera di un certo tipo anche se ormai i telefoni praticamente sono come delle fotocamere, però appunto sono delle attrezzature che tu utilizzi una volta sola per creare quanti corsi vuoi. Ecco perché sono poi facilmente sono dei costi che sono assorbibili piuttosto facilmente già con le prime vendite e poi naturalmente questo l'abbiamo già anticipato lo fai una volta questo corso e poi proporlo per sempre quindi non va in scadenza. Lo puoi proporre anche ad audience diverse, lo puoi proporre in canali diversi con angolazioni sempre diverse, ma il corso resta sempre lo stesso e non richiede quindi appunto degli aggiornamenti costanti a meno che tu non ti occupi di una tematica che richiede degli aggiornamenti costanti. Ad esempio quando mi occupavo di SEO almeno una volta ogni 18 mesi circa c'era una piccolo aggiornamento da condividere con i clienti, però ecco diventa diciamo così qualcosa che è semplicemente una piccola aggiunta. Come se non bastasse iniziare da un punto di vista proprio di assetti digitali, non stiamo parlando di assetti fisici come microfono e fotocamera ma digitali, non richiede nemmeno lì un grande investimento perché una volta che hai una pagina web per l'acquisto, un carrello per processare l'ordine e un autorisponditore che consenta naturalmente di rimanere in contatto con i tuoi potenziali clienti, di mandare loro le informazioni necessarie per usufruire di quello che proponi, di fatto hai tutto quello che ti serve per generare un'entrata preziosa e costante per te e per tutta la tua famiglia anche quando non ci stai lavorando in maniera attiva e diretta. Ora non sono certo la prima che parla di corsi digitali ma nessuno dice la cosa più importante ossia che creare un corso online è solo l'inizio. Il bello inizia quando l'hai finito, di solito si pensa al contrario, di solito no, se finisce il corso è ok, adesso vediamo chi arriva. No, in realtà è da questo momento che dobbiamo dedicarci a tre fasi senza le quali anche il corso migliore al mondo non ti serve a nulla semplicemente perché non raggiungerà nessuno. La prima è la fase della scoperta e qui un errore che viene fatto spesso che ti suggerisco caldamente di non fare perché l'ho già fatto e ti posso assicurare che ti fa perdere un sacco di tempo è non cercare di essere dappertutto. Scegli un canale, uno strumento che decidi di utilizzare per farti conoscere. Se decidi di intraprendere la strada della SEO attraverso un blog che sia la strada della SEO, se decidi di intraprendere la strada dei social cerca di utilizzare, di partire perlomeno da una piattaforma social e essere full in, utilizzarla al massimo delle delle sue possibilità per almeno 90 giorni prima di iniziare ad aprirti altri 10 account in altri 10 piattaforme diverse. Quindi non cercare di essere dappertutto perché finisci per ritrovarti a non essere da nessuna parte. Dopo la fase di scoperta c'è la fase di riscaldamento e qui uno degli errori più diffusi è proprio quello di chiedere qualcosa al nostro potenziale cliente prima di aver dato qualcosa. Ok? Ecco perché prima ti dicevo un mini corso che non richiede un grosso impegno o addirittura un freebie qualcosa di gratuito che mi permette di capire che cosa fai, qual è il tuo valore, quali sono le tue competenze, qual è il tuo stile, quali sono le tue intenzioni. Sono fondamentali. A me è capitato tra l'altro anche abbastanza di recente perché poi continuo a cercare di di ritargettizzarmi di vedere un ad un annuncio pubblicitario su qualcosa legato all'apprendimento efficace di cliccarci sopra per ritrovarmi con una pagina di vendita che proponeva un corso che se non sbaglio un corso credo in aula che se non sbaglio costava migliaia di euro. Adesso non ricordo esattamente il prezzo preciso ma ricordo di di essermi messa a ridere ma perché anche se a me quell'argomento interessa tantissimo anche se ho un problema assolutamente specifico e urgente che devo risolvere. Io non vado a spendere più di 1000 euro con il primo Pinco Palla che mi ha targhetizzato con un annuncio. Pinco Palla mi deve dire chi è, mi deve dire che cosa fa, mi deve dire perché lo fa, mi deve far capire che posso fidarmi di lui barra lei. E a quel punto arriva la terza fase che è quella della scelta. E qui il segreto non è tanto il tuo contenuto, anche se il tuo contenuto deve essere impeccabile e di valore, ma questo lo do per scontato, bensì il tuo posizionamento. Vedi il tuo prodotto da solo, ok, in sé per sé, non è una ragione per acquistare. Quello che fa il tuo prodotto barra servizio, barra barra corso, cioè quello che è quella che è la trasformazione, che non dico garantisce perché è difficile garantire qualcosa se non in alcuni fronti, però che promette, che rende possibile. È quella la ragione che porterà un tuo potenziale cliente a sceglierti, una volta che hai imparato attraverso i tuoi contenuti ad apprezzarti, a conoscerti e a fidarsi di te. Quindi che cosa ti rende assolutamente unica rispetto a tutto quello che c'è là fuori? Ci sono diversi elementi che ti possono rendere unica, ma quello che posso assolutamente dirti con certezza è che l'elemento che ti rende unica non deve essere il prezzo. Il prezzo non è un buon elemento di posizionamento. Certo ti aiuta a posizionarti in quanto più economica o più costosa rispetto ad altri, ma è una variabile troppo variabile, perché può mutare nel momento in cui arrivano nuovi giocatori sul mercato. Quindi cerca di trovare un posizionamento unico che sia legato alla qualità che offri, all'esperienza che garantisci, alla trasformazione che proponi, al modo in cui proponi questa trasformazione, ad una metodologia particolare. Naturalmente deve essere una scelta autentica, quello che realmente ti rende unica. chiediti perché un potenziale cliente dovrebbe scegliere me piuttosto che qualcun altro che fa magari la stessa identica cosa. In realtà poi c'è una quarta fase fondamentale per crescere, però quella appartiene ad un universo successivo. Già se riusciamo a pianificare le prime tre, quindi la scoperta, il riscaldamento e la scelta, abbiamo gettato basi solide per un business digitale davvero proficuo qualunque cosa proponiamo. Siamo arrivate alla fine di questa puntata di Impact Girl, ma il viaggio per lanciare il tuo business di successo sul web non finisce qui. Come ti dicevo, per me tutto è cambiato poco più di dieci anni fa con il lancio del mio primo corso digitale sulla SEO. Era un corso imperfetto, creato senza strumenti d'avanguardia e nemmeno regia. Ridicolo, disse qualcuno, registrato in camera mia con un pc che pesava praticamente come una valigia. Più volte si sentiva il rumore di qualche sedia che veniva spostata nella stanza accanto oppure il mio cane che abbaiava. Qualcuno mi prese in giro scrivendomi che se volevo mi avrebbe regalato volentieri 100 euro, così potevo comprarmi un microfono decente. Me lo ricordo ancora, questo è il livello di ferita che ho sentito dentro. Altri però si sono concentrati sulla sostanza e mi dissero che era il corso sulla SEO più completo che avessero mai acquistato fino a quel momento. È stato un inizio goffo? Assolutamente sì. Impacciato? Decisamente. Migliorabile? Alla grande. Ma è stato anche il primo passo di quel viaggio che mi avrebbe poi portata a non aver più scegliere fra lavoro e famiglia, permettendomi di vivere il meglio dei due mondi con la massima flessibilità. Ogni inizio caotico e confuso, ogni primo tentativo, sarà facile oggetto di critica da parte di chi nasconde le sue frustrazioni dietro a una tastiera. Ma se aspetti che sia tutto perfetto e inattaccabile, cosa che non accadrà mai, tra dieci anni quello che accadrà è che sarai ancora qui a rimuginare su quello che ancora andrebbe perfezionato. Quindi se creare un corso digitale è parte dei tuoi piani di quest'anno e sei pronta a scendere in campo evitando molti dei pasticci che quella volta ho fatto io, allora porta le tue dolci shopettes sul link che trovi in descrizione di questo video su YouTube e accedi a Digital Revolution Kit, il primo corso online per lanciare il tuo primo corso online in sei settimane o meno. Ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito beats-academy.it e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tipo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl. Grazie a tutti.